a tutti voi fratelli e sorelle carissimi che siete in ascolto del verbo fatto carne per la nostra salvezza messia inviato dal padre manifestato a noi dallo spirito santo grazia e pace il brano del vangelo offerto alla nostra riflessione dalla liturgia odierna festa del battesimo del signore e il testo di matteo al capitolo 3 versetti 13 17 dalla dirompente predicazione di giovanni il battista così ricca di riferimenti profetici dell'antico testamento emerge silenziosa e potente la figura di gesù giovanni che predicava un battesimo di penitenza come modo giusto di preparare la venuta del messia vede molta folla giungere a lui venivano e accogliendo il suo invito a pentirsi si riconoscevano peccatori raccontando il proprio peccato mentre si facevano battezzare quello di giovanni il battista era un gesto di purificazione rituale al quale si univa un sincero desiderio di conversione il versetto 13 nasce da questo contesto penitenziale e purificatore dalla irruente predicazione del battista emerge la figura mite e silenziosa di gesù che dalla galilea viene al giordano per farsi battezzare il gesto sembra incongruente giovanni il battista col suo sguardo profetico ha identificato il messia sembra mettere in risalto lo scambio di ruoli che sta avvenendo lo farà con queste parole sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me versetto 14 dietro questo interrogativo c'è un riconoscimento il precursore ha identificato profeticamente l'unto del signore fino ad ora annunciato in attesa di lui il battista aveva compiuto la sua missione preparando la via del signore per i molti che attendevano la venuta del messia ora il messia è qui e il suo precursore vuole il suo battesimo ma la risposta di gesù tesa a fugare la perplessità del battista è un'ulteriore luce sulla missione messianica che sta iniziando lascia fare per ora perché conviene che adempiamo ogni giustizia versetto 15 mentre pensiamo al termine giustizia inteso biblicamente come volere divino ci domandiamo perché gesù è lì al giordano lui che è senza peccato perché sta in mezzo ai peccatori è la risposta a questi interrogativi che ci fa comprendere meglio l'opera del salvatore gesù uno di noi venuto nella nostra umanità per essere il salvatore dell'uomo dove può andare se non in mezzo ai peccatori la sua missione è donata infatti a tutti coloro che si riconoscono peccatori dunque bisognosi di salvezza il giordano diventa così luogo della rivelazione la quotidianità di nazareth che velava il mistero del verbo e ora squarciata dall'identificazione di giovanni il battista ma soprattutto dalle parole del padre prima però gesù riceverà l'investitura messianica si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo spirito di dio discendere come una colomba e venire sopra di lui versetto 16 da ora in poi l'agire salvifico di gesù sarà pieno della presenza e della potenza dello spirito santo quel gesù che camminerà in mezzo agli uomini beneficando e risanando tutti coloro che erano sotto il potere del maligno lo farà nella piena consapevolezza di essere guidato da dio spirito santo i cieli infatti cita il testo si aprirono per lui e vide la discesa dello spirito santo su di lui ma ciò che suggellerà pienamente la missione di gesù saranno le parole rivelatrici del padre mentre lo spirito nel testo di matteo sembra essere una visione esclusiva di gesù la voce del padre è parola destinata a tutti i presenti è una parola divina viene dal cielo come dai cieli viene lo spirito santo ma risuona sulla terra per giungere agli orecchi e al cuore degli uomini questi è il figlio mio l'amato in lui ho posto il mio compiacimento versetto 17 gesù è dunque rivelato e presentato da dio padre all'umanità intera quale figlio il figlio è dunque la voce del padre è colui che rivela il progetto di amore e di salvezza che dio ha per l'intera umanità è l'azione stessa di dio in mezzo agli uomini è colui che rende visibile la persona del padre nella sua azione di figlio e di servo a beneficio dell'intera umanità realizzando così l'opera della salvezza gesù è il servo annunciato dal profeta isaia che vive una relazione messianica e contemporaneamente filiale col padre in nostro favore come non prostrarci in adorazione di fronte alla santissima trinità di dio che manifesta per la prima volta nel testo sacro del vangelo la sua identità e a un tempo la sua azione subito viene alla mente un altro testo del vangelo di matteo si trova a metà percorso del cammino messianico di gesù verso gerusalemme dove si compirà il mistero pasquale infatti al capitolo 17 versetti 1 8 è narrata la trasfigurazione anche là vi sarà una teofania il padre infatti ancora una volta indicherà agli uomini la presenza del figlio amato dio ripeterà gli uomini che seguono il suo messia le parole rivelatorie identiche a quelle pronunciate ed ascoltate al giordano questi è il figlio mio l'amato in lui opposto il mio compiacimento ma quelle parole sarà aggiunto un imperativo ascoltatelo gesù e dunque il nostro messia se lo accogliamo come figlio salvatore nella fede l'accoglienza significherà prima di tutto l'accoglienza della sua parola di verità perciò il padre ci inviterà continuamente ad ascoltare gesù verbo della vita che dona la vita di dio agli uomini accogliamo dunque carissimi l'opera salvifica di dio che si compie in gesù il figlio salvatore unto messia dalla potente azione dello spirito santo incominciamo il cammino dietro al signore oggi rivelato da dio padre quale figlio salvatore mettiamoci alla sua sequela da veri discepoli camminiamo dietro a lui maestro e via della nostra vita mettiamoci in attento ascolto della sua parola unico modo per essere autentici discepoli mentre conduciamo speditamente il nostro passo verso l'altra grande meta di ogni credente la pasqua del signore gesù saranno le azioni e le parole che ascolteremo nelle domeniche successive a questa a condurci infatti a celebrare in totale rivelazione e piena consapevolezza il mistero di gesù che attraverso la sua morte e resurrezione realizzerà la nostra redenzione pasquale a cristo manifestato dal padre al giordano guidati dallo spirito santo innalziamo la nostra preghiera e la nostra lode perenne amen